Marta, siete rientrate dalla tournée in Cina con la Nazionale, 30.000 persone per un amichevole tra Cina e Italia, adesso bisogna ricalarsi nel clima campionata. Sì, con la Nazionale è stata una bellissima esperienza, di fronte a un pubblico del genere è sempre bello giocare, ti fa sentire veramente atleta da questo punto di vista. Adesso ritorniamo in campionato, siamo rientrate tutte a pieno regime e quindi lavoriamo in funzione della partita di sabato. Questo Riviera di Romagna, anche se c'è un abisso in classifica, è squadra da non sottovalutare? No, assolutamente, sarebbe un errore gravissimo e sarebbe il modo per perdere punti. Noi vogliamo fare i tre punti sabato e dobbiamo farli e quindi è bene entrare in campo concentrate come in tutte le altre partite. Riviera è una squadra da un lato che ha perso delle giocatrici, però sta dimostrando di meritarsi la Serie A e quindi sarà bene lavorare in questi ultimi giorni per preparare al meglio la partita e entrare in campo concentrate come sempre.